è vero che i bulldog inglesi sono molto delicati beh è vero il bulldog inglese è una razza molto particolare io dico sempre esistono i cani esistono i gatti ed esistono i bulldog sono una razza molto delicata devono essere acquistati da qualcuno che ha già avuto un cane come primo cane può essere un po complicato da gestire più che altro perché è molto delicato da un punto di vista della salute sono cani non adatti a chi ama fare delle lunghe passeggiate soprattutto quando fa molto caldo o molto freddo hanno qualche problema di salute in più rispetto alle razze tradizionali hanno problemi sulle vie respiratorie hanno problemi ortopedici spesso dei problemi dermatologici legati a delle allergie alimentari quindi chi vuole acquistare un bulldog sa che compra un cane con un carattere eccellente molto docile molto divertente molto simpatico però con probabilmente qualche problema di salute in più rispetto agli altri quindi anche in questo caso il mio consiglio è parlatene con il vostro veterinario di fiducia prima di acquistare un bulldog che vi spiega bene a che cosa andate incontro qui a lato vi lascio altri due tutorial dove rispondo ad altre vostre domande vi ricordo che per farmene di nuove vi basta iscrivervi su www.vauboys.tv non dimenticate di iscrivervi al canale ci vediamo al prossimo clip ciao 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 ciao